Buon pomeriggio Luga, buon pomeriggio ai telespettatori del Tg8, seconda giornata abruzzese del Vicepremiere Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Questa mattina la tappa più importante, incontrando i lavoratori dell'ONUEL di Atessa in Contrada Saletti per illustrare il piano aziendale che è stato sottoscritto dopo l'accordo al Ministero dello Sviluppo Economico che prevede il riassorbimento di oltre la metà delle maestranze finora abbandonate dalla multinazionale americana che verranno assunte dal nuovo soggetto imprenditoriale, una società cinese del mondo della metalmeccanica. Ha incontrato Di Maio anche i lavoratori della Blutec, azienda dell'indotto Fiat anch'essa in difficoltà. È previsto un incontro il 19 in cui si parlerà però della vertenza di termini merese e il Ministro ha promesso che ci sarà anche un incontro specifico per l'unità produttiva di Atessa nel confronto con la proprietà di questa azienda. Vi facciamo ascoltare le dichiarazioni rilasciate da Di Maio proprio sulla vertenza ONUEL e anche sulle ultime schermaglie con gli alleati della Lega, in particolare con Giorgetti, sul reddito di cittadinanza. Qui c'è stata una grande battaglia dei lavoratori che si sono fatti rispettare, si sono fatti valere e adesso ci sono i presupposti per far ripartire questo stabilimento. Il mio ruolo come Ministro dello Sviluppo Economico sarà quello di rispettare la battaglia che hanno fatto questi cittadini lavoratori nel chiedere lavoro e nel chiedere che l'azienda riaprisse i battenti il prima possibile. Adesso c'è un nuovo privato che avvierà una nuova produzione industriale e il mio dovere sarà duplice, far rispettare il piano industriale e fare in modo che il maggior numero di persone venga assunto. Perché questo è un territorio in cui se chiudono stabilimenti come questi si prosciuga l'economia delle famiglie, dei commercianti e di tutte le città e i comuni che afferivano alla classe operaia di questo territorio. Quindi l'obiettivo nostro sarà quello di far rispettare la battaglia che i lavoratori hanno fatto. Io non sono qui per prendermi i meriti, io sono qui per prendere impegni con i cittadini e cioè di far mantenere i patti e gli accordi che al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo preso con un nuovo privato che entra in questa azienda. Questa Ministro dell'Italia che le piace, quella che vuole il reddito di cittadinanza per le generazioni che soffrono? Posso dirvi una cosa, la terza regione che prenderà il reddito di cittadinanza per numeri sarà la Lombardia, perché qui c'è questo mito per cui al sud va tutto male, al nord va tutto bene, in realtà le sofferenze sono ovunque e a me l'Italia piace tutta, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Non c'è un'Italia che non mi piace perché è più in difficoltà e lo ribadisco, mi piace il risotto alla malanese e mi piace la pizza napoletana, mi piacciono tutte quelle che sono le caratteristiche di un'Italia che insieme è una forza. Dire che il reddito di cittadinanza piace a chi non ci piace, come ho sentito in questi giorni in una dichiarazione, significa dire che non ci piacciono le persone in difficoltà, che sono nelle periferie di Milano e Torino, sono nelle periferie di Pescara e sono nelle periferie di Palermo e Catania. Sono ovunque le persone in difficoltà e noi siamo stati eletti per aiutare quelli che non stanno bene, perché quelli che stanno bene in questo momento sono le persone che stanno mandando avanti l'economia, stanno portando avanti l'economia, sono persone che avranno sempre tutto il nostro rispetto, ma la vera sfida è aiutare chi è in difficoltà. Io sono qui per dare un impegno ai lavoratori che hanno fatto battaglie per mesi, per anni, che hanno detto che qui doveva riaprire i battenti lo stabilimento e ci sono riusciti loro. Gli impegni che prendo è di monitorare e far rispettare gli accordi. Fin qui le dichiarazioni di Di Maio, accolto anche a Tornareccio, poi dai produttori di miele di una zona molto rilevante per l'economia non soltanto di questo comprensorio frentano, ma di tutta la regione, e poi a Lanciano nel pomeriggio l'incontro con i cittadini. Si chiude qui la due giorni abruzzese del vicepremier, che sarà ospite questa sera alle ore 21 nella rubrica Il fatto di Reteotto. A te la linea Luca.